Ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live, benvenuti in questa nuova live per parlare di che cosa? Per parlare di delle azioni che possono trasformare, delle azioni che possono cambiare la nostra vita, perché ci sono diverse cose che noi possiamo fare e che possono comunque trasformare meglio, cambiare, modificare la nostra vita. Ovviamente i cambiamenti avvengono sempre, avvengono costantemente, invece i miglioramenti vanno ricercati, per cui queste azioni hanno proprio la finalità di ricercare i miglioramenti, di ricercare cambiamenti che possono essere positivi per noi. Intanto saluto un po' di persone che si stanno collegando, va bene, Viviana, Alessio, insomma, Bulic, Alessio di nuovo, Passion, Francesco, eccetera, eccetera, Mary Rosi, Silvia, Vale, un po' di persone che si collegano, Antonio, Francesco, Imma, insomma, un po' di persone, Laura, Alessio, insomma, Stella, Marina. Bene, quindi, allora, la prima azione che noi possiamo fare, Bulic in Genovese, lo sai benissimo, lo sai benissimo, la prima azione che trasforma completamente la nostra vita, questo è veramente un qualcosa di fondamentale, se riusciamo a mettere in atto questa cosa in modo costante, otterremo dei risultati stratosferici. Esatto, Emanuele Bulic è genovese destrazione, genovese di fatto è grande Emanuele, grande Emanuele, simpatico, ironico, bene, bene, no, mi piacciono le persone simpatiche, ironiche, allegre, gioiose, e se Cristina sei sposato a chi lo chiede, Cristina chi? Chiedi a me o chiedi a qualcun altro? Poi non viene fuori se sei sposato, cioè, ma che cavolo di dove, cioè, io vabbè, non è che mi importa molto, però mi viene da raschiare sullo sposato, mi viene da raschiare, però, cioè, una entra in una live e chiede se sei sposato, cioè, che cavolo di domanda, chiedi a me, ma spiegami che cavolo di domanda è, cioè, non lo so, tu entri in una live dove si sta parlando un tema e chiedi a quello lì se sei sposato, come se io ti chiedessi a te, che ne so, se sei sposato, cioè, voglio dire, comunque non lo sono, non lo sono, ah, anzi, no, no, ma sono sposato con te, Cristina, ci siamo sposati a Las Vegas l'altra sera, non ti ricordi? Sono, io e te siamo sposati, cioè, io, cioè, mi sono appena sposato con Cristina, Cristina che è mia moglie e non si ricorda neanche di essersi sposata con me, cioè, ma veramente, una vergogna, vergognati Cristina, ci siamo appena sposati e già neanche si ricorda. Adesso no, questa cosa qua e poi riprendo l'argomento, fa la storia della fede, riprendo l'argomento, è interessante perché ho trovato una foto di una scritta sul muro che qualcuno aveva veramente scritto sul muro, ci fa, non ti ho tradito, è che mi ero dimenticato che stavamo insieme, è questa cosa, non ti ho tradito, Cristina, è che mi ero dimenticato che ci eravamo sposati. Bene, riprendiamo il discorso, è tossisco, riprendiamo, non ti ho tradito, mi ero semplicemente dimenticato che stavamo assieme, riprendiamo, esatto, geniale, è vero, è una cosa amicidiale. Tania Bertucci, Tania Bercocci, Tania Bertacci, Tania Bertuccia, eccola qua, finalmente Tania Bertucci, ciao Tania Bertucci, come stai? Riprendiamo, riprendiamo l'argomento. Allora, la prima cosa che trasformerà completamente la vostra vita, ma la trasformerà davvero in modo concreto, è imparare a meditare. Ora, sembra una stupidaggine, ma imparare a meditare e praticare costantemente la meditazione è un qualcosa che veramente trasforma la vita, cioè è un'abitudine che dovremmo acquisire come lavarsi i denti. Mindfulness o anche altre cose. Don Matteo, la zona che trasforma la vita e il matrimonio, Don Matteo lo senti in odore di matrimonio, Don Matteo parla troppo di matrimonio, non lo so, c'è qualcosa nell'aria, c'è qualcosa nell'aria che secondo me Don Matteo lascerà presto l'abito talare e non lo so, è una sensazione inconscia che Don Matteo lascerà presto l'abito talare e convolerà a giuste nozze, a giuste nozze. C'è qualcosa nell'aria che mi dice che Don Matteo, Don Matteo, la news, ma non è una cosa fondata su nulla, è che ho delle percezioni extrasensoriali io, ho delle percezioni, io ragazzi ho delle percezioni extrasensoriali e Don Matteo ho questa percezione extrasensoriale che lascerà l'abito talare e convolerà a giuste nozze, a giuste nozze. Eh, lo sento, lo sento, me lo sento, presto devo annunciare, annunzio vobis gaudium magnum, annunzio vobis gaudium magnum che Don Matteo lascerà l'abito talare e dovremmo chiamarlo solo signor Matteo, signor Matteo, è rasco, è rasco, va bene. Comunque, queste sono le notizie dagli extraterrestri che ogni tanto mi mandano le news. Allora, ricominciamo, ricominciamo, infatti se ne rifiuto, ho Alessandro Papa, quindi prima cosa da fare, prima abitudine da fare è quella della meditazione, meditare è molto importante, bisognerebbe ogni giorno dedicare almeno 20 minuti, se riusciamo al mattino alla sera alla meditazione. 20 minuti non sono tanti, si possono dedicare, l'ideale sarebbe due trance da 20 minuti, una al mattino e una alla sera e sono 40 minuti, ma capisco che le persone, diciamo, per dedicare 40 minuti sono già tanti. Beh, la distrazione è normale durante la meditazione, però piano piano ci si può, due trance da 20 minuti, ci si può abituare. È già importante effettuare una meditazione sul respiro, cioè imparare a respirare come si deve e concentrarsi sul respiro inibisce le distrazioni, inibisce le distrazioni. Eli vinci Slao, Sitz, Plaz, Sitz, Plaz, ma Lacanetti che fine ha fatto? Papella e Lacanetti anche qua si sono andati alla macchia, Papella e Lacanetti si sono andati alla macchia. Eli, Sitz, Plaz, resta lì e stai zitta. Esatto, Lacanetti è sparita ed è sparito anche Papella, il che mi dice che sparisce Lacanetti, sparisce Papella e sono due che spariscono assieme, se due più due fa quattro, i conti tornano, i conti tornano, sparisce la papella, sparisce il Canetti e i conti tornano, i conti tornano. Allora, comunque, tornando al discorso precedente, Tania Grandi, Tania Grandi, Tania Grandi, arrivano assieme, spariscono assieme, arrivano assieme, ormai Papella e Lacanetti sono i conti tornano, ormai Papella e Lacanetti sono culo e camicia, diciamo, bisogna definire chi è il culo e chi è la camicia, però, insomma, diciamo che sono culo e camicia, non sappiamo chi è il culo e non sappiamo chi è la camicia, però va bene così. Allora, andiamo avanti quindi col discorso. La meditazione va fatta, la meditazione va fatta almeno 20 minuti al giorno e è importante farla con la meditazione concentrandosi sul respiro, semplicemente portando l'attenzione sul respiro. Uno diceva 20 minuti sul respiro, ecco, 20 minuti sul respiro ti sembrano eterni. Eccola qua, Lady Elvira, anche Ciuto, Silvia Sicily, e Simona Quantum Live, da quanto tempo? Una volta era un'assidua, Simona, e adesso è sparita Jessica, la naturopata, poi naturopata da che? Non sappiamo. Quindi, dovete prendervi 20 minuti al giorno, non sono tanti, ma trasformeranno la vostra vita. Se uno prende l'abitudine di meditare 20 minuti al giorno, 20 minuti al giorno, la sua vita si trasforma in meglio e si acquisisce una serenità che altrimenti non si avrebbe. È fondamentale, veramente di fondamentale importanza imparare a farlo. Sono 20 minuti ben spesi, non sono 20 minuti buttati via. Davvero, sono 20 minuti ben spesi. Questo è il primo punto. Il secondo punto importante per trasformare la propria vita è fare ciò che ci spaventa. Ciò che ci spaventa è lì che dobbiamo andare a… è lì, la partita si gioca lì. La partita non si gioca da altre parti. La vera partita, la partita del cuore, si gioca lì dove c'è qualcosa che ci spaventa. Qualcosa che ci spaventa a livello sociale, intendo, no? Qualcosa che ci spaventa, che mi spaventa entrare nella gabbia delle tigre affamate, è normale che mi spaventi entrare nella gabbia delle tigre affamate, ma noi dobbiamo imparare a fare ciò che ci spaventa. E per dire, possiamo superare, diciamo così, possiamo superare le nostre paure attraverso le domande giuste. Cioè, se impariamo a porci le domande giuste, riusciremo a superare le nostre paure. Se io ho paura, ad esempio, che ne so, di approcciare una donna per paura di essere rifiutato, per fare un esempio, sto dicendo un esempio per caso, ma potrebbe essere ho paura di chiedere l'aumento al capo ufficio per paura di essere rifiutato, oppure, insomma, oh, è arrivata la Canetti e Papella. Stavamo dicendo, Canetti, che oramai tu e Papella siete culo e camicia. Oh, anche la malgacciona, anche la malgacciona. La Canetti e Papella abbiamo detto che sono culo e camicia. Basta capire qual è la camicia e qual è il culo, diciamo così. E se non lo sai tu che sei culo e camicia con Papella, chi è che può saperlo? Allora, andiamo avanti. Jessica Naturopata, Sitz. Papella c'è ma non si vede, esatto, Papella c'è ma non si vede, è sempre imboscato, Papella c'è ma non si vede. Quindi la seconda cosa veramente importante da fare è questa qua, quella di fare ciò di cui abbiamo paura, affrontare le nostre paure e possiamo affrontarle con le domande giuste. Se io temo, ad esempio, di dover parlare in pubblico o temo di essere rifiutato nell'approccio con una donna, la domanda che devo farmi è cosa succederebbe, come mi comporterei se io non avessi paura? E adesso vi svelo una cosa, non so se voi siete vecchi a sufficienza, ma siete tutti abbastanza adattati, quelli che siete qua, quindi credo che siete vecchi molto più di me. Avrete voi, ognuno di voi avrà avuto da bambino un supereroe, ognuno di voi avrà avuto da bambino un supereroe, Batman, Superman, avrà avuto un supereroe, una persona di riferimento. Se non ce l'avete, createvi un supereroe, createvi un supereroe, createvi un avatar. La Malgaschona, eccola lì, la Malgaschona. Tra l'altro Malgaschona, oggi ho sentito, ci ho sentito, via chat, la tua pargoletta, la tua pargoletta Federica, che la sentivo particolarmente contenta, è vero Malgaschona? La Federica era particolarmente contenta oggi, eh? La Federica è particolarmente io a 19 anni, e se hai 19 anni sei già vecchio allo stesso, vecchio anche a 19 anni. E abbiamo detto alla Federica, ho suggerito alla Federica che è l'ora di renderti nonna, perché vogliamo la Malgaschona nonna, la Malga nonna, la Malgaschona nonna vogliamo, quindi presto la Malgaschona nonna. Comunque, tornando al discorso precedente, quindi la cosa importante è fare le cose che ci spaventano, e dobbiamo chiederci, e dobbiamo chiederci, farci delle domande, farci delle domande. E se abbiamo un supereroe, se non ce l'abbiamo ce lo creiamo, poniamoci la domanda, che cosa farebbe Batman in questa situazione? Che cosa farebbe Superman in questa situazione? Che cosa farebbe Wonder Woman in questa situazione? Wonder Woman tra l'altro non c'è. Che cosa farebbe Wonder Woman? Oppure che cosa farebbe Catwoman, lì la gatta lì? Catwoman è un supereroe. Ecco, che cosa farebbe? Chiedete, fatemi questa domanda. Cosa farebbe Taramasco? Bravi, bravi. No, io non sono supereroe, anzi. Che dice? Che è che ti cancella i messaggi? Ma non può cancellarti i messaggi nessuno! Quantum Live, c'hai la chiave tu! Che cavolo dici? Nessuno ti può cancellare i messaggi. Cioè, potrei cancellarteli io, ma io non te li cancello. Quindi tu sei moderatrice anche, nessun, nessuno ti può cancellare i tuoi messaggi. Cavolo di, di... O li scrivi troppo lunghi, i messaggi, o non si vedono. Perché magari non vedi i messaggi, devi impostare tutti i messaggi, no? Ma non può cancellare nessuno i messaggi a Quantum Live, perché è una moderatrice, la chiave. Non te li può cancellare nessuno. Quantum Live, imposta bene i cosi perché non li vedi. Capra! Cazziamo un po' Quantum Live. Quindi, comunque, createvi un supereroe, createvi un supereroe e chiedetevi che cosa farebbe questo... Che cosa farebbe Batman, Superman? impostate i messaggi, non solo i messaggi principali, ma tutti i messaggi. Ci vuole tanto capirlo. Elena Azzalini, intanto colgo l'occasione di salutare Elena Azzalini da Vienna, che ha la fortuna di vivere a Vienna. Io che supereroe sono. Comunque, trovatevi un avatar. Ecco, il supereroe deve essere... Avete visto il film Avatar, no? Dove c'era quello di che andava con l'avatar? Dovete creare un avatar. E poi, è interessante questo, perché si entra in un mondo trascendente. Si entra in un mondo trascendente e quello che non possiamo farlo in questo mondo immanente, possiamo farlo nel mondo trascendente. Perché nella trascendenza noi possiamo fare tutto, praticamente. Nella trascendenza abbiamo la possibilità di fare tutto. Quindi, se ci creiamo un avatar, un avatar che diventa un po' il nostro alter ego, è come utilizzare una matrix virtuale. Noi siamo in una matrix che possiamo chiamare reale. Possiamo entrare in una matrix virtuale e in questa matrix virtuale possiamo fare di tutto, veramente. Possiamo fare di tutto. E quindi, ecco, lasciamoci liberi di sognare. Di sognare e di essere dei supereroi. Di fare qualcosa. Che cosa fare? E poi però dobbiamo, come dicevo prima, dobbiamo agire. Dobbiamo avere il coraggio di fare un atto di coraggio. Dobbiamo avere il coraggio di fare ciò di cui abbiamo paura di fare. Perché Superman, per dire, non avrebbe. Nembo Kid, non lo so. Perché io e Don Matteo siamo ancora nell'epoca prima di Superman. Sapete che Superman è l'evoluzione di Nembo Kid. Prima di Superman c'era Nembo Kid. Che poi si è trasformato in Superman. E quindi io e Don Matteo, che siamo, diciamo, del giurassico, siamo ancora dell'epoca di Nembo Kid. Esatto. Noi siamo ancora dell'epoca, io e Don Matteo eravamo già anziani. Quando Nembo Kid doveva ancora nascere, abbiamo battezzato Nembo Kid. Poi è diventato Superman successivamente. Ma prima era Nembo Kid. E quindi dobbiamo, adesso Don Matteo non so dove è andato, perché Don Matteo ormai si dà... Ah, eccolo lì. Black Macigno, esatto. Black Macigno, esatto. Black Macigno, Zagor, Zagor, Tex Wheeler. Cosa farebbe Tex Wheeler in questa situazione? Quindi... E poi dobbiamo affrontare la Bertuccia che dice Nelson Mandela, la Bertuccia, Tania Bertuccia. Beh, cosa farebbe Tania Bertuccia in questa situazione? Comunque, è importante trovarsi un... Veramente. Perché questo, se noi riusciamo a identificarci con una sorta di entità, che poi diventa una forma pensiero, questo. Diventa una forma pensiero. Diventa veramente una forma pensiero. mister Valgo è... Esatto, non ci vedo la mazza. Mister Valgo è troppo forte, però. È troppo forte. E quindi dobbiamo iniziare a fare delle cose che abbiamo paura di fare. Un'altra cosa che dovremmo, secondo me, imparare a fare è a diventare un po' irriverenti. Irriverenti nei confronti anche della vita, diciamo così, no? Anche delle persone. Ma soprattutto diventare irriverenti significa fregarsene un pochettino. Cioè non accanirsi sulle situazioni. Perché se non diventi irriverente e nell'ambito di una relazione... Insomma, dobbiamo pensare che se una persona non ti vuole, il primo pensiero che deve avere è poverina o poverino non sa quello che si perde. Perché questo è veramente importante. Dovete avere la forza, diciamo così, di pensare che voi stessi, per voi stessi, siete la persona più importante del mondo. Dovete pensare che siete la persona più importante del mondo. Se uno non ti vuole, poverino lui che non ti vuole. Non sa quello che si perde. E potrebbe essere anche peggio. Ma non importa. Beh sì, non è che è egocentrismo. Che cavolo dici Jessica Naturopatra? Non è egocentrismo. Perché per te devi essere sicuramente la persona più importante del mondo. Perché renditi conto che se tu non... come dire... allora tu sei la soluzione. Non devi percepirti come un problema. Se tu ti percepisci già te stessa come un problema, cioè se ti percepisci difettosa, come uscita difettosa dalla fabbrica, allora hai praticamente finito di vivere. Cioè non devi percepirti come uscita difettosa dalla fabbrica. Tu sei uscita bene dalla fabbrica. E poi se una persona non ti vuole per come sei, problemi suoi. Non è un problema tuo. Ma l'importante è che sei irreverente verso questa cosa e che non ti accanisci. Perché nel momento in cui inizia a fare la lagnosa, ecco, smettete di lagnarvi. Dovete smettere di lagnarvi perché a fuori di lagnarsi, a fuori di lagnarsi, lagnarsi, non lagnarsi, lagnarsi, a fuori di lamentarsi, cosa succede? Che ti accanisci sulle situazioni. Ti accanitevi, accanettatevi, accanetti, sì, splaz. Esatto, Franco Rispoli, fare l'ambulanza e lagnarsi non serve a niente. Abbiamo Maria Lamela, Maria Lamela. Quindi questo è veramente importante, imparare, diciamo così, ad essere, da un certo punto di vista, autoreferenziale. Autoreferenziale può essere una brutta prova. Uh, eccola qua, Rita Margherty, che ogni tanto si rimanifesta. Ma che gli fai a questo povero uomo di Giancarlo, ex Osvaldo? Me lo consumi, me lo consumi. Non è... Un bel cagnolino. Che cagnolino? C'ho già la canetti di cagnolino. Che cagnolino, Don Matteo? Ho già la cannet, ho già la cannet, che l'ho affidata a Bapella che se la porto in giro è in giro lui. Sizz, splaz. Sizz, splaz. Dottor Domenico Barone. Allora, li vedi sti sottotitoli baroni. Quindi questo è veramente fondamentale, no? Dobbiamo imparare, dobbiamo veramente, trovare questo avatar. Ognuno di voi si va a cercare un avatar, si va a cercare una... si va a cercare un supereroe con il quale identificarsi. Questo è veramente importante. Quindi, allora, abbiamo detto, primo punto importante, fondamentale, meditare. Quindi, inseritevi la meditazione o mindfulness o altri tipi di meditazione, ma poi va benissimo anche la meditazione sul respiro. Ad esempio, moni cali a cali. Esatto, con le mille braccia. Quante braccia a cali? Nove braccia. La dea cali. Poi, fare le cose che non vorreste fare è importante. fare le cose che non vorreste fare o fare le cose che vi fa paura fare. Questo è fondamentale. Creandovi un avatar, creandosi un avatar, perché un avatar ti aiuta a fare questo, ti aiuta. Un avatar è veramente fondamentale. Il tuo supereroe col quale ti identifichi. In realtà poi, alla fine, ecco, potremmo dire che è un simbolo, un simbolo positivo che sconfigge il simbolo negativo. A me piaceva Lamu. Lei era irreverente. Lamu non la conosco. Si vede che tu sei troppo giovane, Lady Elvira. Io Lamu non la conosco. Chi è sta Lamu? Sailor Moon? Sailor Moon. Io Lamu non la conosco. Quindi, comunque, crearsi un avatar... Comunque, sicuramente, crearsi un avatar è importante. Crearsi un avatar è veramente importante perché diventa un simbolo positivo, no? Ecco, come funziona il discorso simbolico? Il discorso simbolico funziona così. Che se io mi creo un simbolo positivo e do potenziale a questo simbolo positivo, e do potenziale... E vabbè, ma questi sono cartoni animati giovani. Io sono... Gli ultimi cartoni animati giapponesi era... Come si chiamava lì? La Bertuccia? No, come si chiamava... Come si chiamava Don Matteo? Il cartone animato che dobbiamo noi? Goldrake, Goldrake. Io sono rimasto ai tempi di Goldrake. Esatto, Goldrake. No, ma Zing è già successivo. Io sono ai tempi di Goldrake, che è il primo. Si trasforma in un razzo missile, come era. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole, mi ricordo ancora. No, quello è Gigrobot, Uforobot. Esatto, Uforobot, Uforobot. Esatto, quello lì, quello lì. Si trasforma in un razzo missile. Quindi, comunque, entrare in un avatar vuol dire creare un simbolo positivo. E questo simbolo positivo, quando ha il potenziale sufficiente, sconfigge il simbolo negativo. Gigrobot, esatto. Sconfigge il simbolo negativo. Il simbolo positivo è... Che cos'è il simbolo positivo? È l'avatar del bene. Mentre il simbolo negativo è il vincolo, quello che ci blocca. È l'avatar del male. E quindi noi, diciamo, riuscendo a identificarci con un supereroe, riusciamo a sconfiggere il male. Perché se voi vi ricordate bene, tutti i filmati, ma anche i filmati, diciamo, quelli di, come si chiama quelli, Walt Disney, c'è sempre una lotta tra il bene e il male, se andiamo a vedere, no? È sempre c'è l'orco cattivo, c'è il personaggio del male. Ora, noi quindi dobbiamo identificarci e anche in tutti, ma in tutti, in tutti i cartoni animati c'è sempre questa vita duale, no? Il bene e il male. Noi possiamo identificarci nell'avatar del bene e quindi possiamo sconfiggere il male. Il male chi è? Il male sono i vincoli, sono le inibizioni che noi abbiamo, sono i blocchi, sono le paure, sono le ansie, sono gli attacchi di panico, sono le preoccupazioni. Perché mi viene un'ansia? Perché mi viene un'angoscia? Questo è il male, il male è anche l'idraulico. Il male è quello che noi possiamo sconfiggere, quello che noi possiamo sconfiggere, identificandoci con questo simbolo positivo. L'agenzia ansia, sì, perché vengono le ansie, le preoccupazioni, le depressioni? Perché sono tutti simboli negativi. Sono simboli negativi che purtroppo noi li alimentiamo. E come alimentiamo questi simboli negativi? Li alimentiamo col nostro pensiero. Siamo noi che alimentiamo la nostra ansia? Siamo noi che alimentiamo i nostri attacchi di panico? Siamo noi che alimentiamo le nostre depressioni? Siamo noi che alimentiamo le nostre negatività? Li alimentiamo col pensiero. pensiero. Noi iniziamo ad accannettirci, ad accannettarci, insomma. Canetti, sitz, platz! Canetti, sitz, platz! Quei canetti, una volta che vieni ti porto in giro col guinzaglio. Una volta che la canetti viene, me la porto in giro col guinzaglio, la porto a fare una passeggiata, le metto il guinzaglio e la porto un po' in giro, la porto nel giardino, nel coso qua sotto, le metto il guinzaglio e la metto davvero. Dovrebbe farla la canetti. Come autopenalizzazione la portiamo in giro col guinzaglio. Allora, quindi, la casara è sempre alle Maldive, la casara ha le Maldive nel cuore, la casara ha le Maldive nel cuore. con il cappottino che fa freddo, io raccoglio i cacchi, lo prendo, lo prendo. La casara, la casara, la casara ha le Maldive nel cuore, la malgacciona, la malgacciona, sarà già andata a dormire. Ah no, c'è, cavolo, eccola lì, porca miseria, già parlavo male, pensavo si è andata a dormire. Tizzi Jaguar fa il troll giapponese, Tizzi Jaguar fa il troll giapponese. Ecco, venite a Torino venerdì primo. Ah, visto che ci sono 13 persone collegate, prima di dirvi alcuni punti importanti ancora, vi ricordo gli appuntamenti, quindi Torino questo venerdì primo marzo alle ore 21, fai volare l'autostima, anche tu che ti senti una merda, anche tu che ti senti una cacca, viene al mio seminario venerdì primo marzo ore 21 a Torino e farai volare la tua autostima. Poi a Milano, invece, domenica 3 marzo, full immersion dal 9.30 al 19. E poi Roma, e poi che lavagnetta? La lavagnetta firmata a Ciuto, lavagnetta di Ciuto, è sempre lavagnetta di Ciuto. E poi Roma 5 maggio dalle 9.30 alle 19. Riferimento 333 15 11 703. Tu, Don Matteo, potresti anche muovere il culo e venire a Milano il 3 marzo. Magari non da solo, io dico una cosa così, butto lì una cosa lì, butto lì un'idea, testa di cocomero di un Don Matteo. Magari non da solo potresti prendere quella cavolo di macchina e venire a Milano il 3 marzo, Don Matteo, e non venire da solo. Ti avviene a Savona direttamente, viene a Milano, a Savona non ci verrai mai, tu Don Matteo. e mi tocca tossire. Oramai il Don, e con chi? Si dice il peccato e non il peccatore, Alessandra Casara. Qua dobbiamo dire il peccato e non il peccatore, diciamo solo il peccato, Alessandra Casara. Poi Alessandra Casara sei troppo curiosa, curiosa. Qua Don Matteo viene con il suo alter ego, con il suo alter ego, con la perpetua. Don Matteo ha cambiato perpetua, secondo me ha una perpetua nuova, ha una perpetua nuova Don Matteo. Vieni con la perpetua Don Matteo, con la nuova perpetua però, con la vecchia, lascia la perpetua vecchia, lascia la perpetua vecchia fa buon brodo. Vieni con la perpetua nuova Don Matteo. A Milano, ti vogliamo a Milano. Alessandra Casara, mi sa che dovrai tenerti la tua curiosità, Alessandra Casara. Pisaz Galova. Pi... no, 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 è scritto in russo, non riesco a leggere. Chi ha scritto? Mi è sfuggito. Allora... Pustaja Galova, perché non so cosa vuol dire, però, Pustaja Galova, che lui ha fatto col traduttore. 5 maggio a Roma, sin di aprile. Allora, comunque, andiamo avanti. Quindi Don Matteo con la nuova perpetua, andiamo avanti e raschiamo. Ho già capito chi è. Alessandra, chi hai capito? Tu non devi capire nulla. Meno capisci Alessandra Casara, meglio è. Meno Alessandra Casara capisce... Poi sei per te... cioè, voglio dire, il gossip, gossip. Qua il gossip non si fanno, non si fanno... si dicono solo i peccati e non i peccatori. Solo i peccati e non i peccatori. Comunque, andiamo avanti. Allora, quindi un'altra cosa importante è iniziare a nutrirsi anche di pensieri positivi. Iniziare a nutrirsi anche di pensieri positivi e iniziare a nutrirsi anche di situazioni di persone positive. Perché un'altra cosa che non è che ce l'ha scritto... non è che ce l'ha scritto il medico... Beh, stasera non c'è in live. Malgashona. Sono tantissime le persone che non ci sono in live. Che vuol dire stasera non c'è in live? La malgashona curiosa... non è il delfino curioso, è la malgashona curiosa. Ma non saprai nulla, malgashona. Resterà un segreto. Poi ha cambiato perpetua, ma le perpetue si cambiano velocemente. Non è che qua... le perpetue noi ce le teniamo poco, vero Don Matteo? Tutti a Torino, esatto. Tutti a Torino, vi vogliamo. La malgashona curiosa. È curiosa come una scimmia, ma non saprai niente, malgashona. Non saprai niente. Fa contratti da un mese. No, però poi Don Matteo passa a tempo indeterminato. Don Matteo fa prima un contratto da un mese, poi fa un rinnovo trimestrale, e poi fa il contratto a tempo indeterminato e lascerà la toga. Vi informo che Don Matteo lascerà la toga e lo portiamo sull'altare. Io farò da... come dire... come si dice quello lì che va a Don Matteo? Però è vero, eh? Come si dice Don Matteo? Com'è quello lì che quando ti sposi... come si chiama? Quello lì che ti fa... com'è che si chiama? Il testimone, testimone. Esatto, testimone. Don Matteo ti farò da testimone. Ti farò da testimone, Don Matteo, per il tuo matrimonio. farò... le prime... ius primenotis, questo va bene, ovviamente, questo non devi neanche dirlo Don Matteo, le ius primenotis ci vanno di sicuro, però farò da testimone. Si fidanzano tutti, esatto, questa è la live dei fidanzamenti, si fidanzano tutti qui, abbiamo già sistemato Lacanetti, abbiamo già sistemato Don Matteo, abbiamo già sistemato Alessandro Papa, non so perché, ma l'abbiamo già sistemato, e poi che abbiamo sistemato? Monicali non sappiamo ancora, Monicali non sappiamo ancora, ma la sistemeremo. Max e Steve non sappiamo, la Canetti è Papella, stai zitta Canetti, oramai si è affibbiata Papella a non rompere le palle, che già... Canetti, hai trovato uno... io te lo dico, da padre devo dirti questo, visto che hai trovato un fesso, diciamo così, che adesso non c'è, quindi visto che hai trovato un fesso che ti ha preso, adesso devi tenertelo lì, non mica vuoi mollare lì, oh, non ho capito, Canetti, non è che di fessi ne trovi tanti, è Canetti, quindi ne hai trovato uno e tientelo, che cavolo. Poi abbiamo la Jessica Naturopata, ah, in trattative, Papella, no, Papella, Pape in trattative. Comunque, quindi, allora, ritorniamo a fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtute e canoscenza. Allora, quindi tornando al discorso del primo, quindi meditare, ecco, nutrirsi di situazioni e di emozioni positive, viviti il rifiuto e non rompere le palle, viversi delle emozioni positive, cosa vuol dire viversi delle emozioni positive? Vuol dire che dobbiamo imparare a lasciare andare tutto quello che ci genera sofferenza, che ci genera tristezza. Dovremmo imparare a scrivere sulla porta di casa nostra vietato l'ingresso ai tristi, vietato l'ingresso ai tristi, perché, come dire, non perché uno deve averci alcune persone tristi, per carità, però, come dire, che siccome le emozioni, bravo, licenzi di lavoro, Mark Steve, siccome le emozioni si trasmettono, diciamo così, a livello energetico, si trasmettono a livello energetico, noi dobbiamo renderci conto che le emozioni si trasferiscono, quindi non c'è niente da fare. Possiamo anche essere dei diamanti, ma se siamo nell'etame, rifletteremo l'etame. Ora, non è che poi l'etame è così peggio del diamante, ma era per fare un esempio, perché il diamante, rappresentato come simbolo di purezza, però, può essere nell'etame, finisce, il belloccio non c'è in chat, partenopea doc, e chi è il belloccio? Dici chi è il belloccio, partenopea doc, prima di andare a dormire? Sitz, platz, partenopea doc. Diamo lì, chiamiamo partenopea doc. Oh, partenopea doc, adesso che sei stata chiamata, dici chi è il belloccio? Che è Alessio 01, ma Alessio 01 fa che... scusatemi, non è che... uno con gli occhiali... E chi è il belloccio? E uno con gli occhiali... Dici il nome, Franco Rispoli, Franco Rispoli, è Franco Rispoli il belloccio, c'è Franco Rispoli? No, uno della chat, io ci so, uno che non c'è, io come io ci sono, che non mi vede? Non ho capito. Comunque, Franco Rispoli c'è, la partenopea e Franco Rispoli, facciamo l'altra coppiata, partenopea e Franco Rispoli. Oppure la partenopea e Bullich? Allora, partenopea, dimmi chi vuoi, che te lo procuro io. Ah, Franco Rispoli, ma Franco Rispoli non è così brutto, a me non dispiace, devo essere sincero. Franco Rispoli non è così brutto, eh, io, non è così brutto, la partenopea se n'è andata. Natalia Bertuccia, va bene, quindi, eh, ecco, quindi, se impariamo a fare queste cose che vi ho detto in questa live, veramente, meditare, fare le cose che non ci va di fare, che abbiamo poro di fare, ma che sono un atto di coraggio, crearci un avatar, l'avatar è fondamentale, l'avatar è fondamentale, e poi, eh, eliminare, diciamo, sì, la Canetti va al lavoro, perché l'hanno messa a fare la guardia, alle pecore, fare la guardia alle pecore. Non si chiama Franco, ha un nome strano? Non si chiama Franco, ha un nome strano? Marco sai come si chiama? Ma che guarda, partenopea doc, ma che partenopea, secondo me tu, sei doc, sei dop, doc nel senso disturbo sessivo compulsivo, in quel senso lì sei doc, partenopea doc, il doc è disturbo sessivo compulsivo, l'acronimo. Comunque, tornando al discorso precedente, ma che lavora la Canetti? L'hanno messa a fare la guardia a un gregge, fa la guardia al gregge la Canetti, l'hanno messa a fare la guardia al gregge, perché per lavorare, adesso sta facendo la guardia al gregge, la Canetti, ma no, la guardia al gregge, la guardia al gregge, l'hanno messa a fare la guardia al gregge, la Canetti, solo che per fare la guardia al gregge ci vuole un canetti consistente, un canetti consistente, questa, le pecore, non fa neanche paura le pecore, capite? le pecore fanno quello che vogliono, esatto, ci va un tipo un pastore maremmano, figurati, la Canetti non fa neanche, non fa neanche paura le pecore, cioè, lo so, la Canetti, iscrivetevi appunto, la Canetti è una stimata youtuber, infatti, iscrivetevi al canale di Chiara Caneschi, quindi, voglio tutti iscritti, tutti e 185 pecore, iscrivetevi al canale di Chiara Caneschi, voglio tutti iscritti al canale di Chiara Caneschi, che dobbiamo farle arrivare, dobbiamo farle arrivare, la Caneschi, a mille iscritti entro domani, voglio mille iscritti al canale della Canetti entro domani, andate a iscrivervi al canale della Canetti tutti di corsa, iscrivetevi tutti al canale della Canetti, di corsa, vi voglio tutti iscritti entro domani, voglio vedere mille iscritti, no, fate arrivare a mille iscritti sto caldo di canale della Canetti, su, allora, dai, su, mille iscritti al canale della Canetti, voglio, iscrivetevi, è un bel canale, davvero, Chiara Caneschi, è un bel canale, siete 177, andate a iscrivervi, tutti al canale della Canetti, che però è Chiara Caneschi, perché Chiara Caneschi è lo pseudonimo, perché lei usa uno pseudonimo umano, no, diciamo, perché per entrare su YouTube, diciamo, YouTube non consente ai non umani di entrare, quindi, ha scelto un nome umano, Chiara Caneschi, quindi iscrivetevi al canale Chiara Caneschi, che è lo pseudonimo umano, diciamo, è l'avatar umano della Canetti, ma è l'avatar, quindi iscrivetevi al canale della Canetti, Chiara Canetti, e iscrivetevi anche al mio nuovo canale, che è anche bello, ve lo consiglio, è felicità, benessere, felicità, benessere, questo qua, che vi ho postato, quindi tutti e 175 pecoroni, andate ad iscrivervi al canale, al mio canale, anche al mio canale, oltre a quello della Canetti, e veloci, e rapidi, ecco, bravo, Pignataro, no Pignataro, Terra Piataro, Terra Piataro, che è intanto Pignataro, Terra Piataro, e iscriviti anche al mio, Terra Piataro, Pignataro, come ti chiami, iscriviti anche al mio, Jessica Naturopata, dai, facciamo 5 minuti di gossip, e poi vi mandiamo, facciamo 5 minuti di gossip, di gossip, e poi ce ne andiamo tutti a dormire, sì, facciamo 5 minuti di gossip, vediamo un po', ad esempio, Vittoria Vinca, con chi potremmo sistemare, perché Vittoria Vinca è la nostra nefilim, che è sempre in cerca di fidanzato, quindi c'è qualcuno che si offre per Vittoria Vinca, un fidanzato per Vittoria Vinca, lei alta 2,50 m, Vittoria Vinca, un fidanzato per Vittoria Vinca, uno buono, ad esempio il dottor Franco Rispoli potrebbe andare bene con Vittoria Vinca, io vi vedrei bene, Franco Rispoli e Vittoria Vinca, potrebbe essere un'ottima accoppiata, Franco Rispoli e Vittoria Vinca, e Vittoria Vinca, il Pignataro lì, no, 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 io sono fuori gioco, io sono fuori gioco, io organizzavo anche gli speed date, in passato ho organizzato gli speed date, ma ero sempre fuori, dietro le quinte, se accoppiavano gli altri, io, diciamo, grazie agli accoppiamenti che ho prodotto, no, adesso a parte gli scherzi, grazie agli accoppiamenti che ho prodotto nella mia lunga carriera, diciamo, ho anche indirettamente generato tanti figli, ad esempio il prossimo che nascerà da Don Matteo, magari c'è anche il mio zampino, se Don Matteo si riprodurrà, potrebbe esserci anche il mio zampino, non zampino nel senso di, ma in generale, diciamo così, quindi indirettamente ho riprodotto, diciamo, il bulliccio, va bene, colpa tua siamo già in 7 miliardi, esatto, esatto, eh, bullici, non so, potresti, tu dove sei bullici? Forse era lei che cercava, la, come si chiama, la partenopea doc, bullici e la partenopea doc, è sparita la partenopea doc, magari il belluccio era Bullic, Bullic, Bullic potrebbe essere Milano, ah, beh, Milano-Napoli non è tanto lontano, che mi chiami papi anche tu, che non è che sei senza capito, tu sei più vecchio di me, che mi chiami papi, non lo so, cos'è papi, Emanuele Bullic, sarai 75 anni, tu, che è sta roba, allora, Terry Terry è accoppiata, non la vogliamo, la partenopea doc, cercava Bullic, secondo me anche cercava Bullic, la partenopea doc, Laura M, Laura M è single, quindi, ah beh, non so, Laura M, però non c'è la foto, non so, Bullic con Max Steve, l'accoppiamento, Bullic e Max Steve, può andar bene? No, perché visto che magari, Bullic e Max Steve, ma Bullic è il cognome, no, poi abbiamo Monicali, Monicali con Terra Piataro, possiamo fare anche Monicali, e Terra Piataro, Monicali e Terra Piataro, io voglio uno bello e ricco, Sonia Topazio, Ciuto, allora se vuoi uno bello e ricco, Sonia Topazio, Ciuto è quello che fa per te, Ciuto e Sonia Topazio, vi vedo bene assieme, uno bello e ricco, abbiamo accoppiato, abbiamo accoppiato, bello e ricco, quindi abbiamo Sonia Topazio e Ciuto, e Ciuto, quindi l'accoppiata vincente, a fare fatto, Sonia Topazio e Ciuto, perché lei lo vuole bello e ricco, quindi abbiamo trovato, Ciuto per Sonia, quindi l'importante è il fallo, allora, per Monicali, quindi, ne vuole uno, ne vuole uno, insomma, che sia dotato, e quindi, chi gli possiamo dare? Il Barone, ma il Barone, il Barone, il Barone, oppure gli possiamo dare anche Max Steve, che secondo me, Max Steve, potrebbe essere uno, che può andare bene per la Cali, Max Steve, ma, la Sonia Topazio, vabbè ragazzi, oppure per il dottor Domenico Barone, l'agenzia di accoppiamenti, no, no, ma è interessante vedere un attimino come ci possono essere le varie cose, poi Adele cerca finto fidanzato, allora, Viviana Paglionico, Viviana Paglionico, è qua, Viviana Paglionico, chi ti trovo? Dottor Franco Rispoli, oh, io voglio capire questo dottor Franco Rispoli, cioè, allora, voglio vedere, allora, adesso mi scrivete tutte quelle che sono disponibili, per il dottor Franco Rispoli, per fidanzarsi con Franco Rispoli, scrivete tutte quelle che vogliono fidanzarsi adesso con Franco Rispoli, scrivete, no, con Franco Rispoli, chi vuole fidanzarsi con Franco Rispoli, Sonia Topazio, Sonia Topazio per Franco, adesso stiamo facendo Franco Rispoli, c'è Franco Rispoli, chi vuole fidanzarsi con Franco Rispoli, ah, Sonia Topazio, Sonia, vabbè, la Paglionico è sposata, Sonia Topazio per Franco Rispoli va bene? Sonia Topazio, confermi Franco Rispoli è uno, Franco Rispoli è due, Franco Rispoli è tre, Sonia Topazio, dimmi se confermi, Sonia Topazio, oh, non scrive, ok, quindi, Franco Rispoli è ufficialmente fidanzato, Franco Rispoli va bene, chiunque li propongo, quindi, Franco Rispoli stai zitto, non rompere le palle, che Sonia Topazio, già il cognome, Topazio, eh, già il cognome la dice lunga, quindi, abbiamo trovato un'altra coppia, Franco Rispoli e Sonia Topazio, ha giudicato, ha giudicato a Franco Rispoli, bene, bene, quindi, mettetevi in contatto, inciucciate, ok, Franco Rispoli e la Topazio è a posto, poi la Tania Bertuccia con Spinardi, che è Spinardi? Cioè esiste uno Spinardi? No, e la Margachona tiene famiglia, la Margachona tiene famiglia, la Margachona tiene già famiglia, la Margachona tiene famiglia, è solo Margachona, Marco Predolin, Simona Larana, Simona Larana non ci convince dalla foto, non ci convince dalla foto, siamo tornati alle medie, va bene, dai, di nuovo mi cancello, ah, Simona, Quantum Live, non ti può cancellare nessuno, ma ce l'hai quella testa di cocomero che ti ritrovi? se tu hai la chiave, non ti può cancellare nessuno, o scrivi messaggi troppo lunghi che non si vedono, hai capito, se hai la chiave, vuol dire che la chiave sei moderatrice, quindi tu puoi cancellare eventualmente gli altri che non sono moderatori, Marco la chiave, non ti può cancellare nessuno, potrei cancellarti io, ma non ti sto cancellando nessuno, quindi, non ti cancella nessuno, hai capito? Potrebbe essere che non hai settato i messaggi, hai settato solo i messaggi principali, e i tuoi non si vedono, oppure, se scrivi messaggi molto lunghi, non si vedono neanche, l'hai capito? no, com'è che si chiama lì? che è che ha detto? vabbè, insomma, questa qui che ha scritto, Tania Grandi, Zitta, Sitz, Plaz, poi dobbiamo copiare anche Tania Grandi, chi è che si offre per Tania Grandi? chi è che si offre per Tania Grandi? Domenico Barone, io lo vedrei bene con Maria Lamela, il Barone Lamela, perché c'è anche assonanza, il Barone Lamela, fa anche assonanza, Domenico Barone Lamela, il Barone Lamela, quindi abbiamo copiato il Barone con la mela, adesso ci manca la nostra amica Tania Grandi, oh, abbiamo Fabrizio P, Fabrizio P, quindi vendiamo Fabrizio P, Fabrizio P è 1, Fabrizio P è 2, Fabrizio P è 3, chi è che vuole Fabrizio P? alzi la mano, chi è che vuole Fabrizio P? offerte per Fabrizio P? qualcuno vuole Fabrizio P? aggiudicato, chi è Fabrizio P? chi è che vuole fidanzarsi con Fabrizio P? oh, Marco Spinardi, abbiamo anche Marco Spinardi, oh, ma Fabrizio P non vuole nessuno, chi è che vuole Fabrizio P? Maria Lamela col Barone, abbiamo già trovato, Maria Lamela e il Barone, Maria Lamela e il Barone, oh, Tizzi Jaguar, ragazzi, Tizzi Jaguar, c'è un altro pezzo forte qua, Tizzi Jaguar, vengono fuori maschietti, chi è che vuole Tizzi Jaguar? Silvia Sisili, potresti voler Tizzi Jaguar, che è un, lo conosco personalmente, Tizzi Jaguar è uno tosto, è uno tosto Tizzi Jaguar, quindi un pezzo da novanti Tizzi Jaguar, donne, è arrivato Larotino, è arrivato Larotino Tizzi Jaguar, con chi ce l'ha? Tizzi Jaguar è Larotino, Marco Spinardi, stasera ci divertiamo, va bene, dai, direi che possiamo salutarci, la live è finita, andate in pace, io sono un'attrice, Adele Galano, un'attrice di cosa, che film hai recitato, attrice di teatro, attrice di cinema, che attrice sei? Abbiamo un'attrice, che si chiama, com'è che si chiama l'attrice? Dov'è finita l'attrice? Ho perso l'attrice? Abbiamo un'attrice, che non mi ricordo più come si chiama, qui sparisco di messaggi, con l'uscita della luce, dove è finita l'attrice? Adele Galbani? Adele Galbani l'attrice, Adele Galbani, Adele si chiama, Adele, Adele Galano, ah non Galbani, attrice di teatro, beh, attrice di teatro perché? mi tocca il naso sull'attrice di teatro, quindi attrice di teatro, Adele, non so il cognome se è giusto, comunque Adele, quindi Adele, sceliti un maschio, io ti vedrei bene ad esempio teatro, ok, Adele, no, Franco Risper e con l'atto pazio, Adele Galano, no, non so, Alessandro Papa, Adele il Papa, oppure con Alessio, Alessio, eh, chi è che dà fastidio con le chiavi, c'è qualcuno che elimina, oh, quelli con la chiave, comportatevi bene, non eliminate a muzzo, Adele Galano, ma Adele Galano, vediamo se esiste Adele Galano, confrontiamoci con Google, che ormai Google ci dice di tutto, Adele Galano, vediamo se è un cognome finto, Adele Galano, boh, Adele Galano attrice, qua Google non dice niente, come mai, hai messo un nome fake? Adele Galano attrici non ce ne sono, non ce ne sono, Adele Galano attrici non ce ne sono, lavoro in Inghilterra, e vabbè che lavori dove vuoi, ma Adele, ma ti chiami Galano veramente, Adele Galano attrici non, Google non ne trova, non è che Google in Inghilterra non ci guarda, Google guarda anche in Inghilterra, Adele Galano attrici non ne trova, magari il nome farlocco. Non sono famoso, ah ok, vabbè, allora, anche io posso fare l'attore al, come dire, al circo, all'oratorio, che vuol dire? Tutti possiamo, tutti possiamo fare l'attore, cioè, attore intendo uno, perché, Jessica Naturopata, siamo tornati all'asilo, esatto, ogni tanto torniamo bambini, il reattore del dopolavoro ferroviario, e vabbè, cioè, se il reattore del dopolavoro ferroviario, della stazione di Manchester City, cioè, che vuol dire? attore all'oratorio dei Salesiani, all'oratorio dei Salesiani. io non dico che non sei un'attrice emergente, però, non è registrato su Google, che Google non sa che lei fa l'attrice, dovresti dire a Google, farti un sito, perlomeno, in modo tale che Google sape che tu fai l'attrice, almeno diglielo a, dove è andata? A Dele Galani, ti crei un sito dove metti che fai l'attrice, così Google ti conosce, e quando uno digita a Dele Galani, attrice, compare il tuo sito, no? Cioè, è un modo per farsi conoscere, perché, se no, così a Dele Galani, a Google, Google, digli a Google che fai l'attrice, pensano che lo dici neanche a Google, oramai, le cose che non sa Google, non le sa nessuno. Meglio fare il perpetuo di Don Matteo, esatto, esatto, verrà a fare il perpetuo Don Matteo, dopo questa live sarà famosa, a Dele Galani, dopo la live sarà, ma è sparita a Dele Galani. Google, Google. Vorrei essere il tuo fidanzato a Dele Galani, ma sono sicuro che uno come me neanche lo pensi. A Dele Galani hai trovato un fidanzato, che non so come si chiama, vorrei fare una domanda se mi rispondi, grazie. C'è uno che vuole fare il tuo fidanzato a Dele Galani, non sappiamo com'è, ma uno che vuole fare il tuo fidanzato, che non sappiamo chi non me ha, si chiama Giosuè, Giosuè. A Dele Galani c'è un pretendente al trono di Dele Galani, un certo Giosuè. a Dele Galano. Vabbè, Galano, Galani, cosa cambia? Una O, una I. Ma a chi acc'entra se un'attrice sarà una bonazza? C'è anche la figlia di Fantozzi fa l'attrice, cosa vuol dire? Anche la figlia di Fantozzi fa l'attrice, Silvia Sicili, che vuol dire? Non è che le attrici devono essere per forza buone, anche la figlia di Fantozzi fa l'attrice, qual è il problema? Come un uomo? L'attrice deve essere per forza buona, anche, che ne so, anche, esatto, anche la Turina fa l'attrice, esatto, non è che le attrici devono essere per forza belle, la signorina Silvani, che vuol dire? Non è che le attrici devono per forza, cioè, è un uomo la figlia di Fantozzi? E che vuol dire che è un uomo? Vabbè, comunque, andiamo tutti a teatro in Inghilterra, al dopolavoro ferroviario, a vedere Adele Galano. Vediamo un po' se c'è su Facebook, ormai mi è venuta la sci, sono più curioso della Marga Sean, io, sono più curioso, mi sto rendendo conto che c'ho, devo essere, cioè, sono più curioso della Marga Sean, Adele Galano. vediamo che ci dice, faccia da, qua dice Adele Galano, Adele Gallo, c'è di tutto meno che Adele Galano. Oh, qua non ti trova neanche su Facebook, eh, Adele Galano, c'è di tutto, Adele Galano, manco su Facebook ti trova, eh, questo, non ti trova neanche su Facebook, Adele Galano. Facebook non ti conosce, neanche il signor Facebook ti conosce, ci sarai, ma non ti conosce. C'è Adele Galliano, Adele, neanche Facebook ti conosce, Adele Galano. è un'attrice fantasma, il fantasma del Louvre, Adele Galano, non ti conosce neanche Facebook, no, niente, niente, manco Facebook ti conosce, Adele Galano, non ti conosce neanche Facebook, è sparita, Adele Galano? Stai iniziando a poco, ma pure Facebook non è che bisogna essere, neanche Facebook, cioè, voglio dire, non è che per essere, bisogna essere famosi, neanche Facebook ti conosce. no, qua c'è un Antonio Galliano che lavora all'AMT di Genova, si chiama Adele Galano, Adele, c'entra Adele, Adele, eh, l'abbiamo trovata, eh, di Galano, esiste, attrice teatrale, Heidi Galano, abbiamo trovato, Sonia Topazio, va bene, ragazzi, il teatro del catastro, va bene, vi ricordo gli appuntamenti, che è già tardi, quasi mezzanotte, Torino, primo marzo, ore 21, Milano, 3 marzo, dal 9.30 al 19, Roma, 5 maggio, dal 9.30 al 19, riferimento 333, 15, 11, 7.03, quindi, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, al mio nuovo canale, di cui vi posto qua, in descrizione, iscrivetevi, full immersion, Don Matteo, full immersion a Milano, e viene anche tu, Don Matteo, non da solo, ma muovi sto culo, domenica, e viene a Milano, Don Matteo, va bene, dai, un saluto a tutti, buonanotte, ciao a tutti, buonanotte a tutti, è stata una live un po', sui Genesis, una live un po' sui Genesis, e, buonanotte a tutti, ci vediamo domani, bravo, Terra Pietaro, viene a Torino, il primo marzo, viene a Torino, Terra Pietaro, buonanotte a tutti, ciao a tutti, buonanotte. Grazie a tutti,